Cos'è vita? Lui accoglie tutti, hai capito? Con sorriso e poi fai i fatti. Donarsi. È stato quel guerriero che ha cambiato la vita non solo a Daniele, ma anche tutta la famiglia. Emozionarsi. Cantare. Già un'estate no. Ballare. Riveli. Tante storie, tanti ospiti. Alleluia, 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 alleluia. Questa è vita. Dal 24 aprile su TV2.000 tutti i mercoledì alle 21.05. Aspettiamo.